Fuzzimib analisi mensile dicembre 2020 Allora quindi eccoci sul future italiano dopo i due indici americani dei due giorni scorsi siamo praticamente in dirittura d'arrivo di questo 2020 per fortuna direi forse insomma ne sono capitate di tutti i colori anche se poi fondamentalmente insomma ci saranno anche persone che avranno tratto profitto chiaramente da questo anno Allora vediamo un pochettino avevamo evidenziato queste due fasce di prezzo diciamo ampia con un ampio range insomma la fascia che va da 12.000 a 24 si nota bene come dal 2009 praticamente il Fuzzimib si sia mosso sempre in questo range diciamo tra virgolette tra virgolette in laterale cosa che non è per me incomprensibile perché quindi qui laterale non si può parlare però diciamo che ha sviluppato una dinamica del prezzo compresa tra queste due fasce di prezzo vediamo andiamo a segnarci un po' di livelli massimi minimi venduti sul mensile e vediamo di capirci qualcosa allora abbiamo sicuramente qua un massimo venduto abbiamo un minimo venduto qui proviamo a evidenziare un po' di livelli abbiamo avevamo un minimo venduto qui che è quella poi la candela di marzo che però a novembre sembra io la terrei segnata a quest'area perché malgrado di poco sia stata rotta al rialzo a parte che questa va qua con questa candela di novembre in realtà vedete che subito dicembre sta rivendendo quest'area in maniera importante dal punto di vista del rialzo invece abbiamo qua questi massimi comprati ok abbiamo poi questo massimo comprato no in realtà no perché quello lì è rotto è stato rotto da questa candela più un basso non abbiamo massimi non abbiamo minimi no niente qui poi a questo punto si va fino a questo livello che sembrerebbe comprato ce ne accorgiamo da qua quindi segnerei sicuramente questo livello di riassorbimento 15.000 alla fine dei conti 15.000 cifra tonda sì esatto 15.000 diciamo che è un altro livello importante per poi arrivare al minimo della candela di marzo fondamentalmente appunto come stavo dicendo in questi mesi non ci sono state cioè non ci sono state vedete c'è stata una volatilità c'è stata una dinamica del prezzo che insomma ci fa capire che gli investitori hanno sempre operato all'interno del range del mese tra l'altro a parte questa candela tutte le candele addirittura anche questa qua del mese di novembre che ha visto aprire minimi e chiudersi sui massimi hanno praticamente sviluppato la loro dinamica all'interno del range della candela di marzo quindi insomma questo è molto molto significativo cioè la candela di marzo per il momento non è stata rotta né al rialzo né al ribasso siamo praticamente nel range inside al range della candela di marzo adesso che cosa possiamo aspettarci dicembre sta finendo insomma sembrerebbe che qui sul mercato italiano il il future stia arretrando un pochettino apertura sui massimi e per il momento stiamo accelerando al ribasso senza nessuna esitazione gli indici americani sembrano ritracciare un pochettino guarda caso dopo il cambio della scadenza del future ha tirato su fino a prendersi tutti gli stop possibili di chi era short e oggi guarda caso che la scadenza c'è stata da un paio di giorni da venerdì oggi sembra ritracciare anche in maniera insomma già abbastanza importante quindi che dire andiamo verso il trimestre sicuramente statisticamente non positivo quindi gennaio febbraio marzo che dovrebbe vedere insomma arretrare un pochettino gli indici quello che abbiamo fatto intanto sul future italiano è proprio quello di aver identificato insomma una serie di aree sia short che long su cui diciamo porre l'attenzione e capire da che parte potrebbe andare quindi attenzione alle chiusure mensili sotto 19,7-19,8 perché poi di fatto insomma c'è spazio c'è spazio fino a 15.000 per poter scendere diciamo abbastanza in maniera incontrastata tutta questa serie di candele non hanno ormai non riescono ad avere questi minimi potrebbero qua su questi minimi il prezzo potrebbe incontrare qua vedete anche qui abbiamo questi minimi comprati con la candela però non abbiamo l'ingresso vero lo abbiamo qua e poi lo abbiamo qua quindi questi sono i livelli che io attenzionerei niente direi che anche per il Fussimibe oggi non aggiungerei altro riprendiamo domani come al solito insomma alle due con le azioni qui